Seduti tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show al Teatro Parioli di Roma, come due spettatori comuni, si trovavano per ben due volte i latitanti boss Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano, inviati in trasferta da Totò Riina per pianificare attentati contro il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Questa rivelazione emerge da un articolo di Lirio Abate su Repubblica, accompagnato da una foto che fa parte dell'inchiesta sulle stragi al nord coordinata dalla Procura di Firenze. Le immagini inedite mostrano i due criminali apparentemente tranquilli tra gli spettatori, passando inosservati a tutti, compresi gli ospiti sul palco, che ignoravano la presenza dei protagonisti di una stagione di terrore destinata a sconvolgere il paese e le istituzioni. Il contesto è l'inverno del 1992. Alcuni mesi dopo, il 13 maggio 1993, Costanzo e la sua compagna Maria De Filippi riescono miracolosamente a sfuggire a un attentato con autobomba in via Fauro a Roma, nelle vicinanze del teatro dove si svolgeva la trasmissione. Messina Denaro e Graviano sono stati individuati in due occasioni, il 13 novembre e il 30 dicembre del 92. Poco prima, Cosa Nostra aveva assassinato i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle loro scorte. La rivelazione sulla presenza di Messina Denaro e Graviano tra il pubblico è avvenuta grazie a un suggerimento di Graviano stesso agli inquirenti. In un'intercettazione in carcere, aveva ammesso di essere stato a Roma con Messina Denaro e di aver partecipato proprio come spettatore al Maurizio Costanzo Show. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dal mondo.